a dove sta tuo padre al prato dovevi detto che lo conoscevi un padre per botten proibito rigorosamente l'ingresso agli italiani puoi entrerli dentro e questo lo dai polizioni e ci portano l'oro da tuo padre ma si può sapere che vuoi viaggio a pensare a vita mia che non mi aiuti a portare la valigia che sta a stare su sto ragazzino che ti porti dietro è una cosa complicata pensiamo a fatica che è meglio ma che resta tristezza ma che ti fresca ma che ti è successo? non mi ammergo ma ne l'ho riportato al padre grazie